Sacchetti della spazzatura usati dagli infermieri come calzari in certi casi per ovviare alla carenza di dispositivi di protezione in ospedale. E' quanto denuncia il Nursin Ragusa che nei giorni scorsi aveva segnalato all'azienda sanitaria il problema della sicurezza degli operatori sanitari. Ci giungono notizie poco confortanti della crescente curva di contagi tra infermieri e altri operatori, scrive la segreteria territoriale guidata da Giuseppe Savasta. I lavoratori da volta acquistano di tasca propria l'attrezzatura, mancano anche le divise per gli infermieri neoassunti. Siamo al corrente della diatriba in corso tra l'Asp di Ragusa e la ditta fornitrice del servizio, ma di questo aspetto controverso e in questa fase sono a pagarne direttamente le conseguenze di infermieri che da ben un anno vengono assunti e in alcuni casi non ricevono le divise dell'azienda. Poi arrivano segnalazioni in merito alla mancanza di zone filtro, zone pulito sporco dove gli operatori dovrebbero effettuare delicate procedure di vestizione in tutta sicurezza per evitare il contagio. In una struttura questa operazione viene effettuata sulla scala antincendio. La capienza di pazienti nelle zone grigie, nello specifico all'ospedale di Vittoria, supera di gran lunga i posti assegnati con grandissime difficoltà da parte degli infermieri di poter garantire la giusta assistenza a tutti i ricoverati. Sconfortante puoi leggere le dichiarazioni del direttore sanitario quando dice che in effetti quando si organizza un covid hospital bisogna avere accanto anche la terapia intensiva con medici rianimatori. Queste dichiarazioni, sia tra gli addetti ai lavori che tra tutto il personale, hanno generato una seria preoccupazione in merito a tutta la gestione di questa emergenza a livello dirigenziale che merita una riflessione seria ed accurata. Occorre che l'azienda intervenga, rapidamente conclude il nursing, per risolvere le criticità evidenziate. Diversamente saremo costretti ad effettuare le segnalazioni agli organi competenti. Grazie a tutti.